Click & Garden, il tuo giardino in un click. Dopo aver ricevuto il progetto a casa potrai avvalerti, per fortuna o per sfortuna, nel senso che non ti abbandoniamo, potrai avvalerti della nostra assistenza rapida WhatsApp post-progetto. Che cosa significa? Già a partire dal giorno in cui andrai in giro in cerca di materiali, arredi e soluzioni per il tuo nuovo giardino terrazzo e avrai bisogno di condividere delle scelte, fotina, ce la mandi. Noi WhatsApp lo abbiamo collegato sul PC nel giro di pochi secondi, riusciamo a interagire con te e risolvere qualsiasi tipo di problema. Ti devo dire la verità, questo servizio WhatsApp di assistenza rapida post-progetto è un servizio a prova di scettici, a prova dei più scettici. Funziona, ha risolto problemi nel nostro lavoro 99% dei casi, quindi sicuramente è un servizio che aiuterà anche te.